E ciao a tutti e bentornati a The Media, la mia città moddata in City Scalons 2. Nello scorso episodio abbiamo fatto un altro segmentino del nostro villaggio e abbiamo passato tanto tempo a risolvere il problema del valore del terreno nella nostra industria. Perché era una cosa assurda. E sta tornando assurda, maybe? No, ok. Vedete che è tutto verde, adesso c'è un po' di rosso qua in mezzo che è buggato ancora. Però per il momento è a posto. Beh, l'altra volta tutte queste strade erano rosse e sono un po' buggate. Adesso cercherò di sistemare anche quelle. Già, non molto simpatico. E anche qua giù potete vedere che è rosso. Senza troppe ragioni. Prima di continuare iscriviti per supportarmi e non perderti nessuno delle prossime guide, tutorial e news. Però va bene, dai. A parte quello le cose stanno andando abbastanza bene. Del nostro villaggio. L'abbiamo quasi completato, questo primo segmento. Poi lo lasceremo così per un po'. Non andremo a costruire altro, andremo da un'altra parte della mappa. E poi ci torneremo più avanti per fare altre sezioni. Perché vedete che l'area del villaggio era molto grande. Ma non voglio farla tutto in un colpo solo. Detto ciò, direi quindi di partire. Allora, prima cosa diamo un attimo un'occhiata. Questi problemi di affitto. Impiegato non ho nessun problema. Allora, impiegato non ho nessun problema. Impiegato non ho nessun problema. Non so perché si lamentano dell'affitto, sinceramente. Vedremo. Facciamo partire la simulazione intanto. Andiamo ad aggiungere un paio di milioni, ok? Ecco qua. Così abbiamo qualche soldo in più. E ora abbiamo questo da risolvere, che abbiamo visto l'ultima volta. Potete vedere come sia abbastanza un problema. Quindi, vedremo di fare una cosa relativamente semplice, onestamente. Magari un pelo diverso dal solito. Vediamo. Allora, innanzitutto devo... Ok. Togliere i pali dell'elettricità. Li metteremo più avanti. Perché ho bisogno di spazio. Ok. Poi. Andiamo a togliere questo. E di norma mi verrebbe da dire di fare una trombetta. Ora. Ha senso per noi fare una trombetta? Abbiamo tante tante auto in uscita. Sì. Ha senso fare una trombetta. Ok. Trombetta sia. Quindi. Andiamo a fare così. 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 Ormai l'avete vista tante volte quando le ho costruite a tuttora non credo sia più una sorpresa come si costruiscono le trombette. Poi andiamo, anzi, prima di fare il segmento, a fare... Così. 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 è venuto un gran che è questo. Così. Ritentiamo. Ok. Adesso è corretta. E così. Perfetto. Ora andiamo a prendere questo. e colleghiamo. Poi. Andiamo a prendere questo. E colleghiamo. E adesso andiamo a fare il segmento centrale. Non serve andare tanto in alto, lo sapete. Basta andare avanti di dieci senza troppi problemi. Ecco qua. Poi andiamo a farla. Da che lato la facciamo? Facciamola verso di qua, dai. Tanto per cambiare. Ok. Poi andiamo a fare. Così. E così. Ok. Non ci rimane che sistemare la matematica delle corsie adesso. Quindi. Facciamo così. Questa diventa singola. E... Basta. Sì. Bandiamo la curva a sinistra a questa. E abbiamo già finito. Strano ma vero. Abbiamo già finito. Vedete quanto è veloce fare una trombetta. E ancora una volta. Lo so che è solo un dettaglio e lo so che non c'è la meccanica dei sorpassi. Magari arriverà in futuro. Guardate che bello avere nelle curve che non sono adatte a un sorpasso la doppia linea. È una cosa stranissima che ci sia. Però c'è. Ora voglio fare un attimo un piccolo cambiamento qua perché non mi piace com'è venuta questa. Era molto spigolosa diciamo. Ok. Adesso mi piace molto molto di più e quindi in questo caso possiamo andare a fare così. Ancora meglio. Wow. Wow wow wow. È venuta fantastica. Andiamo ad allungare questo. Mettiamo fino alla lufina del ponte direi. Così. Perfetto. Bene. Non ci rimane che ricollegare l'elettricità. Allora. Tu ti ricollego e tu ti ricollego. perfetto. Facciamo ripartire la simulazione. Vediamo che questi facciano il loro giro e poi avremo risolto. Ora ve l'ho detto già l'altra volta anche. Abbiamo il problema che qua l'autostrada sta portando le persone direttamente al villaggio attraverso la zona industriale potrebbe non essere l'ideale per cui farò una seconda autostrada in futuro partendo da qua che arriverà al villaggio che non voglio brutte sorprese diciamo. Però per il momento va più che bene così. Vedrete che la trombetta risolverà tutti i problemi di traffico senza problemi perché è molto buona come vabbè quando avranno finito di mischiarsi così sarà a posto. È molto buona come intersezione. Ora qua giù continuiamo a avere problemi di crimine io non riesco a capire come mai abbiamo continui problemi di crimine in quest'area e che abbiamo la polizia di fronte sono molto confuso sinceramente molto molto confuso ma va ignoriamo per il momento allora ci rimane ancora una piccola sezione da fare di questo pezzo di villaggio diamo un'occhiata alla disoccupazione abbiamo posti di lavoro liberi ottimo vedete che qua si stanno costruendo un po' di cose quindi andiamo a costruirne altre qua direi di fare un po' di casetta schiera qua possiamo fare come fai a lamentarti già dell'affitto questo facciamo così dai tanto per cambiare poi a me è apparso di vedere una cosa che potevamo collegare un pelo meglio mi ricordo male io o c'era per davvero ok c'era già il collegamento perfetto quindi aspettiamo che si crei un attimo questi vedete stanno nascendo i primi edifici così abbiamo un po' di ottimi edifici poi andiamo a fare così così direi non ha senso aggiungere altro e diamo un pochino di tempo ohia c'è pochissima gente che sta andando nella scuola elementare pensavo ce ne andassero di più ho detto sinceramente ok qua giù andiamo abbastanza bene allora per le nostre linee ferroviarie come si ha messi 1080 persone al mese ottimo molto buono molto buono ok fantastico qua vedete che abbiamo ancora tanti taxi in entrata da qua giù nonostante ci sia la stazione di collegamento qua c'è il collegamento però la gente fa il giro comunque vabbè per il momento va bene comunque dai per il momento va bene poi vedremo come sistemare la cosa qua abbiamo detto che non potevo toccare le corsie perché si scavolano se no secondo me potrei provare a metterla autostrada a vedere se si scavolano vero però non sono così convinto secondo me si scavolano comunque quindi vedremo per il momento accontentiamoci direi ok qua si stanno costruendo le prime cose e sono state riempite subito c'è un bel po' di richieste sono state riempite molto velocemente fantastico che dire di sicuro non minamento allora andiamo a vedere la produzione grano e carote siamo ancora un po' indietro quindi in quest'area farò un po' di grano e un po' di carote dai allora qua fatemi fare una cosina un pelino migliore facciamo così e poi facciamo così 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 perfetto così posso piazzare una di grano qua ok andiamo a far così perfetto vediamo sono curioso di vedere quante tonnellate riesco a prendere così eh dai non male comunque faremo un'ottantina di tonnellate 85 ci sta ci sta ci sta ok non è tantissimo ma è ottimo così tiriamo su questa e poi dobbiamo andare un pochino di carote anche magari faremo questa cosa gigante di carote per il momento diamogli tempo e spazio ora qua abbiamo già richiesta di impiegati più istruiti cosa che non so molto come fare perché oh ne abbiamo tanti però che hanno un'istruzione di scuola superiore però ne abbiamo zero che non sono impiegati quindi dobbiamo proprio aggiungere popolazione al momento credo sia l'unica soluzione sì guardate come si riempono in fretta ok adesso voglio provare a farli tutti solo ed esclusivamente mixed zoning ok adesso intanto che ci siamo possiamo sfruttare qua una stradina per tagliare via la parte dietro magari con la curva non le linee rette spaccate lì è esattamente quello che volevo fare fantastico e qua posso permettermi un'altra abitazione che non crescerà perché il valore del terreno è troppo alto quindi mettiamo delle casette a schiera allora queste qua a schiera quanto hanno? tre unità abitative interessante interessante ok quest'area sta iniziando ad essere abbastanza trafficata però è soltanto quelli che passano in in questo quartiere qua perché non essendo collegate è soltanto l'uscita dal quartiere questo tutto il resto è per forza lì non possono prendere altre strade se vogliono andare di qua devono fare tutto il giro senza se e senza ma ora io ho pensato onestamente di fare di togliere questa qua pedonale e fare un altro vicolo in più sinceramente però a questo punto preferisco prima mettere degli edifici qua intorno e poi riempire lo spazio se ci serve qua abbiamo una nuova lamentera di affitto come mai sei un impiegato benestante cosa ti lamenti dell'affitto bro serio su via fai il serio bro fai il serio diamo un'occhiata al valore del terreno nel frammento come al solito esageratamente alto non c'è niente da fare speriamo che non ci vada a creare dei problemi però in media si è abbassato il valore perché era un 32k mi ricordo nell'ultimo episodio eravamo sui 30.000 adesso siamo sui 29 e fortuna che ho una mod che lo riduce il valore fondiario se non lo avessi sarebbe un grosso problema ok voglio provare a fare una cosa prima di continuare e cioè rifare questo pezzo di strada a vedere se questo va a dare il colpo finale a il bug del valore del terreno e ci permette di fare i collegamenti giusti ok andiamo a rifare così e basta si guardate adesso è verde perfetto abbiamo risolto il bug della zona industriale che bello fantastico 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 ok c'è una cosa che voglio vedere come siamo messi con le produzioni vedete che abbiamo bisogno di tanta industria dovremo mettere un bel po' di industria in più ok allora procediamo quindi questo è collegato vero si ok andiamo a fare così andiamo a fare così ok qua possiamo aggiungere un altro po' di industria prima di continuare iscriviti per supportarmi e non perderti nessuno delle prossime guide tutorial e news bene 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 oddio che orribile dislivello vabbè lasciamolo così non voglio traumatizzarmi troppo richiede cotone ok allora produce metalli tessuti petrochimici e plastica vediamo un po' ok quindi siamo in carenza di quelli perfetto perfetto ok per tutta roba che siamo in carenza fantastico allora in questo caso io direi nel frattempo allora di andare a fare così riattiviamo questa magari andiamo a conviene forse trasformarla in due corsie voglio provare a fare una cosa interessante guardate voglio provare a fare così non è non è quello che volevo questo volevo poi di nuovo poi di nuovo due qua giù voi vi chiederete perché ho fatto questo perché voglio provare a mettere dell'industria qua in mezzo vedere come viene oh yes esattamente quello che volevo fare non credo che ci siano dell'industria lunga 1 no ok 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 letteralmente è una cosa stranissima quella che sto facendo lo so volevo solo fare una cosa strana per vedere cosa succedeva in quel mezzo voglio mettere delle querce allora cercare da dare un aspetto un po' più speciale diciamo ok bene torneremo tra un po' quando saranno costruite adesso dobbiamo tornare qua giù perché abbiamo un po' da costruire e di nuovo facciamo come abbiamo fatto qua quindi io direi di fare questo come cresce cresce così se facessi così cresce per intero si ok voglio solo vedere quanto sono alti sono curioso di vedere quanto diventano alti come edifici perché non li voglio troppo alti se diventano troppo alti li abbassiamo di nuovo perché mi farebbe comodo avere un'altezza del genere qua in mezzo perché qua in mezzo non ci starebbe il vicolo stavo pensando prima cioè ci starebbe il vicolo per carità però dovrei anche poi rimpicciolire queste case perché sono lunghe a tre quindi sono proprio convinto ok qua che lamentere abbiamo pensionato impiegato 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 studente che me frega che me frega che me importa avete pure le tasse basse vedete pure le tasse basse io boh ok ecco le nostre industrie senza laboratori perché gli mancano e c'hanno pure ragione ok secondo me questi edifici saranno un po' altini dovrebbe darsi che li tolgo vediamo mentre possiamo andare a fare un po' di vicoli qua più piccoli oddio stradine più che piccoli così tanto per aggiungere un po' di ulteriori collegamenti che male non mai fanno poi aggiungeremo anche dei parcheggi non vi preoccupate non ricordo che sono da aggiungere allora livello di produzione oh la la ma siamo indietrissimo di grano come mai? una di queste usa il grano per caso eh si questa ci ha ciucciato un botto di grano ci ha ciucciato au mi scusi e va buo vediamo gli più grano gli diamo tutto questo intero settore vediamo un po' sicuramente quali tonnellate di grano ne avremo se voglio non arrivo fino in fondo e niente allora andiamo a fare tutto il collegamento abbiamo una marea di tonnellate questo giro fantastico 200 tonnellate fantastico adesso di sicuro ci riprendiamo le tonnellate che ci mancavano poi qua giù io direi di andare a mettere quello che ci manca di più è il carbone quindi facciamo questa di carbone dai non ho mai capito perché quando li piazziamo si mettono il punto il pollice in basso da soli cioè potrei capire se lo metto di fianco un'abitazione l'abitazione mi fa pollice in basso ma lui perché si lamenta vabbè anche se mi dice che ci sono zero risorse che me frega molto onestamente a parte che non hanno bisogno delle risorse quindi allora il carbone siamo a 27 tonnellate in negativo vediamo quante tonnellate ci da sono molto curioso a breve ci torniamo allora sì questi sono troppo alti ok allora li teniamo più piccoli facciamo così siamo tutto mixed questo perché sono 16 impiegati ma 44 residenti 30 residenti ok ok allora qui come siamo messi finché c'ha due impiegati non va bene quando poi ne abbiamo di più va bene abbiamo zero impiegati ok qua dietro però ci starebbe una casetta vediamo un attimo cosa riesco a fare sapevo sapevo che ci riuscivo ho capito che c'è la criminalità però criminalità è bassa è solo quest'area che sono pazzi sono pieni di crimini mio boh adesso sono drogati questo è 6 su 6 in pattuglia ah boh a sto punto ti do altri veicoli 6 su 12 vediamo si aiuta un po' non capisco perché ci sia così tanta criminalità in quest'area onestamente sono molto confuso peccato che non riusciamo a vedere secondo me la distruzione ah no la vediamo a livello di distruzione del quartiere ok lo sapevo fantastico non ci avevo mai passato ha provato a mettere il mouse sopra ok abbiamo ancora tanti disoccupati eh vabbò pace amen cose che capitano allora a livello di traffico abbastanza trafficata è la trombetta abbiamo fatto bene a piazzarla sono un bel po' di veicoli che la usano e qua giù come siamo messi stavo pensando ma se io questo lo trasformassi in strada normale invece che autostrada mi andrebbe a sistemare qua così se io vado ad utilizzare adesso la mod dei semafori riesco a farla andare questo questo c'è sempre il cambio di corsia non capisco perché no non riesco a capire perché non gli piaccia questo questo tipo di incrocio non gli piace non importa chi faccia cosa a quanto pare come non detto posso farci nulla vabbè quando il traffico poi qua inizia ad avere problemi vedremo di mettere da altre parti allora oh qua in mezzo si sono piazzate ottimo è quello che volevo fantastico ok io direi basta mixed adesso perché se no abbiamo troppi negozi nella stessa area deve andare di edifici normali forse ne abbiamo già messi anche troppi di mixed onestamente vedremo perché questo ci dà otto abitanti e otto impiegati non mi piace molto come cosa però tutti sti bucoletti non sono male alla fine mi piace mi piace allora qua giù ci siamo messi a produrre no non abbiamo impiegati come mai non abbiamo impiegati siamo in una crisi di disoccupazione così grande a quanto pare si si ho esagerato con i mixed va bene facciamo così allora facciamo così e andiamo a piazzare delle palazzine ok questo sicuramente dovrebbe alleviare un pochino il problema sì sì sicuramente sì lo so che c'è mancanza di intrattenimento devo piazzare dei parchi lo farò sicuramente ok l'unico impiegato c'è 104% da efficienza ma dubito che stia producendo infatti finché non non si potenzia non fa come questo che ha un tot di lavoratori dentro non credo faccia nulla vabbè allora qua siamo sempre a posto ma sì è che quelli che vogliono andare qua comunque possono sempre scendere e andare di là solo questa strada che è bella lunga come faccenda ma le altre non hanno quei gran problemi ok per vedere come vengono su questi che ho fatto di dimensioni diverse sono curioso di vedere se hanno un bell'aspetto ok lui e lui li hanno presi i lavoratori quindi fantastico impiegati vediamo un po' ah ok non ho più lavoratori poco istruiti ecco qual è il problema mi sa no oddio ne ho 485 ne ho solo 213 impiegati magari lavorano da altre parti però perché ci sta anche tutta l'industria di fianco ok allora ha senso allora ha senso qua siamo sempre uno uno credo che dovremmo aspettare un po' prima di aver della produzione sì dobbiamo aspettare un po' mi sta producendo un cacchius vabbè bene signori dai io mi ritengo abbastanza soddisfatto level up qua abbiamo il solito bug luminoso e direi che noi possiamo vederci nel prossimo episodio ciao grazie a tutti Grazie.